Io ho sempre trovato abbastanza cretina questa storia dell'argomento di dire noi ci tagliamo lo stipendio e così via, perché non so, io per mio figlio voglio una maestra brava, non una maestra che si tagli lo stipendio, se vado dal dottore voglio avere un dottore che mi curi bene, non voglio sapere che quel dottore lì restituisce parte dello stipendio per darlo alle microimprese o qualcosa del genere, quindi l'argomento del io do parte del mio stipendio per le microimprese è nient'altro che una specie di beneficenza coatta, qualcosa del genere, fatta oltretutto in favore di telecamere che rende la beneficenza molto pelosa, sarebbe come dire, e poi l'aspetto diciamo abbastanza penoso di questa storia è un po' come dire io mi impegno come argomento di fronte ai miei elettori, che se sarò eletto ogni mese darò 2000 euro agli orfanelli, per me è un argomento del pifero se devo essere sincero, io mi impegno per fare delle cose, quindi devo avere un programma da presentare ai miei elettori, però supponiamo che qualcuno ci caschi e dice va bene, allora io mi impegno ogni mese a dare 2000 euro agli orfanelli, chiamo a tutte le telecamere quando sto facendo il versamento di 2000 euro dagli orfanelli, mi gonfio il petto come un tacchino come spesso facevano questi soggetti perché quelli presi per questi argomenti erano fra i più integralisti, mi ricordo Martelli che in modo molto spiacevole tanto per dire in certi casi diceva io sono così e voi siete più o meno tutti i ladri, nel momento stesso in cui in favore di telecamere verso 2000 euro per gli orfanelli aspetto che si spengano le telecamere e poi vado a riprenderne 1000 dalla cassettina, l'argomento di dire però tutto sommato alla fine ne ha versati 1000, non è che sia sto granché, stiamo parlando di un poveretto, detto ciò è un poveretto, non voglio estendere la cosa a tanta gente che invece ha mantenuto quello che ha fatto, però se tutti quelli che hanno mantenuto quello che hanno fatto è tutto lì, io come ho detto tante volte in campagna elettorale mi sembra molto poco, gli stipendi servono per avere una professionalità, in certi casi io sono convinto che ci sono molte figure politiche che sono pagate poco, mi viene in mente per esempio i sindaci, si fa fatica a trovare un buon sindaco, perché la paga è piccola, le responsabilità sono pazzesche, non appena succede uno che cade in una buca arriva un avviso di garanzia, si rischia la galera e così di questo tipo, quindi insomma come tutti i mestieri gli stipendi secondo me sono sacri, bisognerebbe guardare cosa uno fa. Ci torniamo dopo la pubblicità, perché c'è anche chi dice e sono alcuni esponenti che hanno lasciato o sono stati mandati via o allontanati dal movimento che questo non accade è a caso e oggi c'è un'intervista interessante sul giornale che dopo la pubblicità vi leggo.